Proiettato nei giorni scorsi al Calvario di Domodossola in anteprima nazionale il docufilm dedicato ad Antonio Rosmini, voluto dall'Associazione Cinema Cristiano con la regia di Marco Finola. È stato girato lo scorso anno anche a Domodossola, dove il sacerdote ha fondato l'Istituto della Carità, e a Stresa, nel 1839, si ritirò a Villa Ducale per completare le sue opere letterarie. La proiezione, nell'ambito delle due giornate dedicate alla riscoperta del filosofo e teologo trentino ad oltre 220 anni dalla sua nascita, un momento promosso da Fondazione e Associazione Ruminelli con il Liceo Domese delle Scienze Umane Antonio Rosmini e numerosi partner. Il video, dedicato a opere e pensiero del filosofo di Rovereto, si divide in parte documentaria con autorevoli testimoni e fiction. Il progetto si prefigge di approfondire e divulgare la conoscenza di un'importantissima figura della filosofia e della cultura del XIX secolo. Rosmini ha vissuto in un tempo di grandi cambiamenti storici, tuttavia il suo pensiero risultava ancora precoce per essere capito dagli uomini della sua epoca. Oggi, questo documentario si propone di rendere accessibili a tutti il pensiero del Beato, uomo di grande fede cristiana, che ha realizzato opere annoverate tra le eccellenze della letteratura filosofica. Il documentario, nella sua distribuzione, sarà corredato da un'importante opera editoriale firmata dal nostro direttore Maurizio De Paoli, una riproduzione integrale delle interviste contenute nel filmato ed approfondimenti autorevoli e di alcune tematiche specifiche. De Paoli ha già pubblicato tre libri dedicati a Rosmini.